Hai da pochissimo conosciuto BuddyBank, hai aperto il tuo conto guadagnando 40€ di bonus iniziale e adesso però stai cercando 6 persone da far registrare per guadagnare i tuoi 240€ di bonus. Se questa è la tua condizione, allora questo è il video che fa per te. Mi raccomando, prima di iniziare, lascia un like, iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Sigla, iniziamo subito! Se non conosci BuddyBank con la strepitosa offerta che sta facendo in questo momento, te la riassumo brevemente alla registrazione, hai la possibilità di guadagnare subito immediatamente 40€ e poi ti verrà consegnato un codice da poter diffondere ai tuoi amici con il quale guadagnerete entrambi, sia tu che l'amico che inviterai, 40€ per un massimo di 6 persone. Ciò significa che avrai la possibilità di guadagnare 40€ non appena ti registrerai e poi di poter guadagnare fino a 240€ invitando 6 amici. Se vuoi delle informazioni in più su questo conto e sei interessato a registrarti utilizzando un codice bonus, vai a guardare questo video che ho già creato sul mio canale, che ti lascerò anche sulle schede oppure in descrizione. Tornando all'argomento principale del video di oggi, moltissimi dei miei amici, vedendo anche il mio video su BuddyBank o parlando, chiacchierando con me, come facciamo normalmente, mi hanno detto, sì è bellissimo, BuddyBank funziona davvero una meraviglia, ho fatto la registrazione, ho guadagnato i 40€, ma adesso come faccio a trovare le altre persone? Al che chiaramente io sono rimasto un po' diciamo in silenzio, non sapendo effettivamente come rispondere, perché fondamentalmente l'unica cosa che posso consigliare di fare è magari inserire il vostro codice nei social, contattare qualche amico, dirlo ai vostri familiari, ai vostri conoscenti, però mi rendo conto che non sempre sia facilissimo trovare 6 persone che vogliono aprire questo conto proprio dal vostro link. Quel giorno quindi tornai a casa e niente, diciamo che sono rimasto un po' a pensare, sono rimasto abbastanza pensieroso e mi son detto, che cosa posso fare io veramente di concreto per dare una mano a tutte quelle persone che hanno fatto il conto BuddyBank, hanno preso i 40€ di bonus, ma non sanno come riuscire a prendere i 240€ bonus in più, ci ho pensato, ci ho ripensato e alla fine sono giunto ad un'unica conclusione, ovvero quello di dare la possibilità alle persone di poter inserire i propri codici e di divulgarli grazie al mio canale. Fermo, fermo, un secondo, so che stai per commentare qua sotto il video mettendo il tuo codice di iscrizione a BuddyBank, ma ti avverto già da prima, purtroppo sarà del tutto inutile, questo perché l'algoritmo di YouTube automaticamente va a scovare tutte le persone che cercano di spammare i propri codici sotto, diciamo, i commenti di questi video e fondamentalmente li rimuovo in modo del tutto automatizzato, quindi anche se volessi lasciare lì il tuo codice non potrei farlo neppure volendo. Cosa si può fare però in maniera un po' più concreta? Ho pensato a diverse soluzioni, però volevo cercare di creare qualcosa che potesse dare una mano davvero in modo concreto un po' a tutti e quindi sono giunto a questa conclusione. La conclusione a cui sono giunto dopo un bel po' di giorni che ci ho pensato effettivamente era quella di andare ad utilizzare questi codici soltanto per un certo lasso di tempo all'interno della descrizione proprio di questo video qui e anche possibilmente del video, diciamo, relativo alla recensione del conto BuddyBank che ho fatto in precedenza. Adesso cerco di spiegarti in modo più semplice e pratico possibile quali sono le operazioni che dovrai fare se vuoi veramente avere la possibilità di avere il tuo codice inserito all'interno della descrizione dei miei video per tre giorni. Ripeto nuovamente, facendo questa procedura avrai la possibilità di mantenere per tre giorni il tuo codice di adesione BuddyBank all'interno della descrizione dei miei video. Ci tengo a precisarlo anche se credo sia quasi scontato. È possibilissimo che anche solo in un giorno riuscirei a fare tutte e sei le adesioni, tutte e sei le registrazioni e quindi prendere tutto il bonus. Com'è possibile che in tutti e tre i giorni riuscirei a prendere uno, zero, due adesioni? Purtroppo chiaramente questo non è una cosa che posso decidere io e soprattutto è una cosa molto variabile. Varia in funzione dell'algoritmo di YouTube varia in funzione delle persone che vanno a visualizzare questo video Insomma, ci sono tantissime variabili che ovviamente non posso controllare l'unica cosa che posso fare è cercare di dare una possibilità a tutti quanti. Mentre stavo editando il video ho pensato in realtà ad un'altra opportunità che secondo me può essere ottima per far arrivare il vostro codice a più persone possibili e questa cosa sarebbe quella di andare a pubblicare questo codice, il vostro codice, i vostri codici ogni tre giorni all'interno del mio profilo Instagram che purtroppo diciamo non è chissà quanto grande però comunque ho circa un migliaio di follower quindi c'è la possibilità magari mettendo storie ogni giorno di andare a far vedere il vostro codice ancora a più persone rispetto che sponsorizzandolo magari soltanto sul canale YouTube quindi farò così inserirò il vostro codice all'interno delle mie storie e ogni tre giorni andrò a modificare chiaramente questo codice in modo tale che possiate un po' tutti cercare di fare questo bonus e che sia chiaramente visibile a quante più persone possibili ma quindi come si fa effettivamente per essere accettati e avere in sostanza il proprio codice inserito nella descrizione dei miei video relativi a Buddy Bank? Te lo spiego in maniera semplicissima il primo requisito è quello di iscriverti al mio canale YouTube e fare iscrivere altri tre amici che non mi seguono già il secondo requisito invece è quello di iniziare a seguirmi su Instagram e farmi seguire sempre ad altri tre amici che non mi seguono già su Instagram una volta completate queste due semplicissime operazioni basterà scrivere un commento proprio sotto questo video in cui mi raccomando non dovrai inserire il tuo codice Buddy Bank bensì dovrai dirmi che effettivamente hai completato tutti i task che ti ho detto che in realtà sono soltanto due una volta fatto questo commento scrivimi direttamente sui direct di Instagram dicendomi chiaramente sia il tuo nickname sia il nickname dei tre tuoi amici sia relativamente agli account di YouTube quindi agli account Google sia relativamente agli account di Instagram una volta che avrò verificato che effettivamente abbia seguito le regole in modo corretto e che quindi ci siano questi follow e questi iscritti sui miei canali andrò a prendere il tuo codice Buddy Bank che ovviamente mi dovrai inviare sempre sui direct di Instagram e per tre giorni lo andrò ad inserire nella descrizione dei miei video YouTube relativi a Buddy Bank in questo modo spero davvero che possiate tutti quanti riuscire a guadagnare quanto più possibile grazie al bonus di benvenuto di Buddy Bank questa però chiaramente è un'offerta limitata perché l'offerta di Buddy Bank scade effettivamente il 12 gennaio del 2022 quindi ci sono posti limitati se sei interessato effettivamente a condividere il tuo codice e cercare di ottenere più iscritti possibile all'interno di Buddy Bank e quindi riuscire a guadagnare fino a 240 euro di bonus segui questi passaggi e cerca di farlo più in fretta possibile perché chiaramente io andrò a creare una sorta di lista e andrò ad inserire in maniera cronologica le varie persone quindi chiaramente chi mi iscriverà prima nei direct di Instagram dopo aver completato tutte le operazioni chiaramente sarà listato sopra a una persona che mi iscriverà dopo per una questione di correttezza detto questo il video termina qui io spero veramente che con questo metodo possiate tutti quanti riuscire a guadagnare quanto più denaro possibile grazie a Buddy Bank e chiaramente grazie ai miei video e per qualsiasi informazione se avete qualsiasi dubbio scrivetelo qui sotto nei commenti io vi ricordo nuovamente di lasciare un bel like a questo video vi chiedo di iscrivervi al canale perché per te è totalmente gratuito ma faresti davvero tantissimo per me e per far crescere il mio canale in maniera effettiva e detto questo noi ci becchiamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti